Gli ingredienti per fare il cacio e uovo sono un chilo di agnello, un bicchiere di vino, rosmarino, cipolla, un po' d'acqua, sale e pepe. Per tutta l'altra preparazione pecorino camigiano grattugiato, di 10 uova, sembra un po' di pepe, ho dimenticato l'olio, è importantissimo. In cottura, in forno a 180 gradi per un paio d'ore, oppure sopra il fornello. A proposito, è uscito il mio libro di ricette abruzzesi e non solo, per chi lo vuole acquistare ci sono le info qui sotto. Mentre l'agnello cuoce io mi preparo, mi avvantaggio con la farcitura. 10 uova, pecorino e il grana padano è saporito quindi basta solo un po' di pepe. Il parmigiano, 400 grammi di acqua, il preparato è pronto, aspettiamo la carne. L'agnello è pronto, bello morbido. Quelle parti dell'abruzzo che si fa strapazzato l'uovo, invece da noi si fa tipo una frettatona grande. Versiamo in forno a 180 gradi per un'oretta circa. E ora l'assaggio ci vuole. Perché ve lo dico a fasolo che scotta?